Il buongiorno si vede dal mattino, con chicchi di caffè appena macinati. Un espresso corposo come miele caldo. E una schiuma vellutata con microbolle di qualità professionale. Prepara facilmente un caffè buono come al bar, pronta in tre secondi con lancia vapore automatica. The Bambino Plus. Il gusto sta nelle piccole cose. Formato compatto, senza compromessi.